Carissimo fratello, sua beatitudine Sviatoslav Shevchuk, carissimo arcivesco maggiore di Chieve, quanto ti ricordo con affetto, amicizia e soprattutto preghiera. Proprio te, che sei a capo della Chiesa greco-cattolica ucraina e abbiamo tutti nel cuore in questo momento le sorti e la situazione dell'Ucraina. Cari confratelli nell'Episcopato, cari partecipanti al Convegno Nazionale Pastorale della Salute, sono davvero l'ammaricato di non poter essere con voi a Cagliari per i molti impegni e incombenze in vista dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana che si svolgerà nei prossimi giorni. Sul tema che andiamo ad affrontare è al centro dell'intero annuncio del Vangelo. Non a caso l'agire della Chiesa è definito pastorale come identità e missione propria, specifica, modellata sulla vita e sull'insegnamento di Gesù. Come sacerdote e come vescovo, prima pastore di Massa Marittima, Piombino, poi di Arezzo, Cortona San Sepolcro, quindi a Perugia, città della Pieve, ho fatto esperienza di città diverse e nell'incontro col popolo di Dio, in particolare con i lavoratori di queste diocesi, ho avuto modo di conoscere storie molto differenti fra loro. Questo mi permette di fare un'osservazione immediata, proprio in riferimento al lavoro e al diritto al lavoro. Non si possono in nessun modo sfruttare le persone, non si possono discriminare, non possono essere usate. Questo vale nella pastorale sociale del lavoro, ma vale altrettanto nella pastorale della salute. Nessun essere umano nella sua malattia può vedere abbandonata la sua umanità in ragione di una discriminazione purtroppo basata sulla diagnosi o sulla prognosi o sulle aspettative di vita lunghe o corte che siano. Al tempo stesso, nessun professionista della sanità può essere usato in una logica esclusivamente funzionale o di profitto. Oggi in Italia non abbiamo un sistema di schiavitù, ma possono esserci delle catene subdole e invisibili, alcune imposte, altre scelte. Il profitto ad ogni costo, un aziendalismo cieco, la coerenza sfrenata oppure la carriera personale o la smania di un risultato utile. La produttività, la reddividità orientata a se stesse in sanità possono trasformarsi in elemento disumanizzante tanto per la persona malata quanto per il curante che vi opera. Penso ad esempio al rapporto tra medico e paziente in cui la relazione di fiducia si costruisce nel tempo, nel dialogo, nell'incontro interpersonale. La mia esperienza di malato di Covid mi ha fatta apprezzare quei momenti di dialogo in cui gli sguardi e le parole valgono molto, elementi insostituibili per una terapia pienamente efficace. Questa attenzione ci riporta al Vangelo. Gesù incontra tanti sofferenti, li guarda, dialoga con loro. Possiamo immaginare che ciascuno avesse un suo proprio odore. Certamente il Vangelo ha un'acuta punta di realismo nel passo in cui si assiste al dialogo davanti al sepolcro di Lazzaro. Le testuali parole sono, disse Gesù, togliete la pietra, gli rispose Marta, la sorella del morto, ma Signore manda già cattivo odore. È lì da quattro giorni. Ancora di più Gesù, nel definirsi il buon pastore, ha piena consapevolezza che il gregge emana un odore poco gradevole. Il rischio è che ci allontaniamo dal gregge stesso, che ci lasciamo vincolare da un pregiudizio o da una precomprensione che limiti e condizioni il nostro agire. L'impegno di noi credenti è di rompere le catene del pregiudizio, saper vedere l'altro esclusivamente come persona, oltre il suo stato sociale, la sua condizione di vita, il suo vissuto. Ecco allora l'importanza dell'insegnamento di Papa Francesco. Oggi è la vicinanza, è il contatto con la realtà, è il rifiuto delle ideologie che ci permette di poter essere pienamente chiesa, comunità sanante, di vivere davvero da cristiani che vogliono incontrare tutti, vivere a contatto tra persone, essere capaci di relazioni interpersonali. forse è questa la migliore definizione di odore delle pecore da cui partire. Così la mia parola di pace, il mio augurio per i professionisti della salute e per gli operatori pastorali in questo vasto campo è che sia sempre d'esta la capacità di una formazione umana vera, piena, attenta a tutte le sottili sfumature del profumo della vita, orientata alla comunione, ricordando che l'Eucaristia è il sacramento della comunione, il vero prezzo per la costruzione della pace. L'allora teologo Ratzinger, nella sua analisi dell'Europa, osservava come la pace non è frutto del volontarismo umano, né tantomeno come la pace possa essere generata dal silenzio dei cimiteri, ma la pace è frutto della formazione della coscienza umana, una formazione che è risvegliare la sensibilità dell'uomo per la verità, il senso di Dio e così l'energia della coscienza morale. In questo sento il dovere di dire una parola di ringraziamento, lo dico proprio col cuore, all'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI. In questi anni di pandemia non hanno mai abbandonato nessuno e in molti modi sono rimasti vicini sia ai cappellani degli ospedali, delle altre strutture sanitarie e sociosanitarie, che agli operatori, ai professionisti della salute e ai molti ministri straordinari della comunione. hanno costruito percorsi di vicinanza, pur con tutti i limiti imposti dalle necessarie precauzioni e di questo, carissime dell'Ufficio, vi dico grazie. A questo aggiungo un ringraziamento a quanti nelle diocesi e nelle regioni ecclesiastiche che si spendono per la Pastorale della Salute e che particolarmente coloro che in questo momento sono presenti a Cagliari. Ma immagine di evangelizzazione, pur nella tragicità prima della pandemia e ora di questa guerra, è stata più appropriata che quella di essere ospedale da campo, chiamati ad essere vicini anche ai più lontani, perché quando ci accostiamo al malato, al carcerato, al povero, al nudo, al malato mentale, all'emarginato, siamo chiamati a riconoscere in quella figura, nel suo crudo realismo, la figura di Cristo. Ero malato, ero nudo, ero matto, ero carcerato e comunque ti sei e vi siete presi cura di me. Tutto quello che avete fatto a uno più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me, dice Gesù. Grazie.